Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. La notizia di oggi, Jesus Ferreira è stato accostato al Napoli. Jesus Ferreira ha segnato 5 volte in 10 partite di MLS finora in questa stagione per l'FC Dallas. Il giovane americano dovrebbe passare al calcio europeo prima o poi. Quel trasferimento potrebbe avvenire presto, con area Napoli che riferisce che il Napoli è interessato a lui. Il Napoli ha appena vinto la Serie A, quindi un passaggio ai campioni d'Italia sarebbe un grosso problema. La domanda è se Ferreira avrebbe giocato regolarmente nel club. Attualmente ha Viktor Osman in testa alla formazione, ma quest'estate il nigeriano sarà molto ricercato dai migliori club europei. La versatilità di Ferreira potrebbe essere fondamentale, in quanto può giocare sia come centravanti che come centrocampista. L'attaccante dell'Usment ha 18 presenze con la sua contea e ha segnato 8 gol e è andato ai mondiali in Qatar, ma ha giocato solo la seconda metà degli ottavi di finale persi contro l'Olanda. Se Ferreira potrà esibirsi in Italia, vorrà essere l'uomo in testa alla formazione a stelle e strisce. Non dimenticare di iscriverti al canale di notizie del Napoli per gli ultimi aggiornamenti meteo. E se il contenuto ti è piaciuto, lascia il tuo like per supportare il canale e contribuire a diffonderlo a più persone. Il tuo supporto è molto importante per noi.